Ben trovati a tutti gli amici di Scommesse Matematiche e MaxMath. Chi sta su Telegram, sui nostri canali Telegram, sulle chat, avrà capito che i vecchi progetti ricominciano a rierabolarli. In che senso? Ho pensato di migliorare non tanto la fase matematica che ormai è ben assestata, quanto più un aspetto di interazione, sia grafica ma anche di semplicità, che possa ottimizzare e migliorare la gestione stessa, in questo caso, del software, che era un software gratuito nella prima versione, quindi io lo ripropongo nuovamente, gratuito, troverete come al solito nelle descrizioni del video le procedure per poterlo richiedere, poi ci sono sempre le possibilità che se qualcuno vuole mi fa una donazione e venga, è normale, anche perché penso che molti di voi che stanno utilizzando questo software, vederlo migliorato, fa solo che piacere. Prima di proseguire col video, un piccolo chiarimento che l'ho fatto già altre volte, però forse è il caso che lo ribadisco, datevi sempre un tetto massimo di perdita, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 10 Euro, fate vobis, non superate mai quei limiti, perché altrimenti c'è il rischio che dal concetto professionale di investimento diventi ludopatia, l'ho detto anche proprio ieri nei canali Telegram e io non voglio essere fautore di una cosa del genere. Chi segue il mio canale deve vivere le esperienze che creo con un approccio matematico, non un approccio necessariamente solo ludico, perché questo crea ovviamente poi una forma di dipendenza e questo non va bene assolutamente. Vi premetto che nel breve futuro comincerò a fare anche dei video di gestione proprio a livello psicologico, di quello che è la capacità di mantenere un limite soprattutto nelle perdite per chi scommette, proprio per evitare di cadere nella ludopatia e sappiamo bene che ci è accaduto, che ci cade poi a problemi seri non solo economici ma anche effettivamente di interazione in un certo senso sana all'interno dell'ambito familiare, questo non deve accadere assolutamente. Detto ciò passiamo immediatamente al video, chi conosce questa procedura dell'1.5 avrà già notato che ci sono delle piccole variazioni o aggiunte in modo tale che sia stato ottimizzato anche una forma di interazione con lo stesso software. Sono delle facilitazioni oggettivamente, quindi cortesemente vi chiedo di vedere il video dall'inizio alla fine, perché se poi non lo vedete non capite quali sono le modifiche, cambiamenti, come si interagisce e poi se le cose non vanno bene, Max non c'entra nulla. Detto questo, facciamo finta che parlo con chi non ha visto il video precedente della versione 1.0 della scommessa doppia e tripla con coefficiente basico, in questo caso chiaramente 1.5, che si intende per basico. Dobbiamo trovare fondamentalmente tre match con delle quote 1.5, che non deve essere per forza la vittoria a casa dell'Inter contro il Venezia pagata 1.5, ma tanto per dirne una. Può essere anche delle quote che trovi all'interno del match, come 1-3 gol e 2-4 gol, che mediamente in una di queste fasce troviamo sempre 1.5, 1.44, 1.53, quindi l'obiettivo finale è che si vallano a creare due quote, quando andiamo a fare in questo caso le combinate doppie, dove un 1.5 per un 1.5 effettivamente ti dà questo coefficiente, il 2.25 e quando andremo a fare, prendendo i tre match con queste quote o giù di lì, dovrà uscire il prodotto che esce e dovrà aggirarsi intorno a questo coefficiente. Facciamo un esempio pratico in questo caso, che è la cosa migliore, e vedrete la nuova interazione e le potenzialità gestionali, semplificate soprattutto, semplificate. Abbiamo a parte il pulsante reset, che è quindi al contrario del vecchio software, che ci permette con un clic di ripulire un po' tutto, tranne queste tre fasce, 1, 2 e 3, che poi andremo a vedere il perché. Qui abbiamo come al solito il memo di recupero, che per chi non avesse visto il video precedente dell'1.5, adesso glielo vado nuovamente a spiegare. La cosa più semplice è partire, va bene, decidere quanto investire. Facciamo ad esempio 3 Euro, 3 Euro che significa dover giocare fondamentalmente o investire, che è il termine più corretto a livello psicologico, 3 Euro su una combinata, 3 Euro su un'altra combinata, 3 Euro su un'altra combinata e 3 Euro sulla ultima combinata, che sarebbe il prodotto di tutti e tre match. Quindi noterete, la prima combinata è una combo A e B, vuol dire match A e match B, messi insieme, poi match A, match C e match B, match C e poi tutti e tre, 1, 2 e 3, ma ce l'avete qua, vedete il momento che parti, tu avrai come incasso totale 7,12, perché hai investito 3 Euro su 4 combinate e finché non si chiudono queste vendette combinate, tecnicamente sul tuo conto mancano 12 Euro e non fa una piega. Aprite il vostro bookmaker di riferimento, in questo caso sto con William Hill, modifico un attimo questa perché stavo facendo proprio una simulazione prima. Adesso facciamo una cosa un po' veloce chiaramente, adesso prendiamo 3 match senza entrare all'interno di tutte le quote per fare una cosa un po' più veloce, prendiamo che ne so, Collegiales, ma non so neanche chi sia, quindi un po' così a casaccio l'abbiamo fatto, però per farvi vedere il funzionamento, poi prendiamo l'Argentino Junior, sto cercando di prendere 3 quote che è in linea di massima, ecco qua, 1,50 e il Saura e il Mundo, va bene. Lui ovviamente mi ha dato queste 3 partite, io adesso che cosa faccio ragazzi? Prendo il Collegiales, ok? Faccio CTRL C, quindi copia, me ne vado sul mio foglio e qui dentro, che è la prima partita, inserirò Collegiales, ok? Guardate un po' che sta per succedere qua, eh? Questo vi facilita moltissimo l'interazione. Andiamo alla seconda partita che avevamo segnato, che era questa, quindi l'Argentino Junior contro l'Unione Santa Fe, CTRL C, ce ne andiamo sulla nostra tabella, lo inseriamo qui, CTRL V, benissimo, e andiamo a prendere l'ultima, vabbè qui ovviamente il nome è lunghissimo, quindi come potete vedere un po' tende a... dobbiamo un attimino accorciarlo, però ci sarò troppo lungo, aspettate... ok, CTRL C, CTRL V, oh, già è meglio, e andiamo a prendere la terza, la terza chi era? Mancomo ricordo più, eccola qua, SAO, RAIMUNDO, quindi veramente lo stiamo facendo proprio adatto per farlo, però possiamo stare due ore a cercare le giuste quote in questo caso. Ok, abbiamo inserito questi tre match, lui già ce li ha inseriti sotto le varie combinate, vedete? Questo anche come il memo, che prima neanche questo c'era, adesso chiaramente andremo a inserire le tre quote che sono uscite da questi singoli match, andiamo a vederli. qui, quindi collegiales è pagato a 1.63, metteremo 1.63, vediamo l'argentinos quanto è pagato, è pagato a 1.70, metteremo 1.7, e poi andiamo a vedere la partita C che era il SAO RAIMUNDO, benissimo, andiamo a vedere il SAO RAIMUNDO, è pagato a 1.50, benissimo, 1.50, oh, guardate un po', lui vi ha già dato i coefficienti, chiaramente, di ogni combinata, questa combinata pagherà con un coefficiente a 2.77, 2.45, 2.55, questa ovviamente molto di più perché è fondamentalmente una tripla in questo caso, abbiamo fatto una combo ma di tutti e tre i match. Che cosa succede? Adesso dobbiamo tecnicamente fare quindi realisticamente queste operazioni, quindi metteremo 3 euro sulla tripla, poi prenderemo questa e questa, metteremo 3 euro, poi prenderemo questa e questa, metteremo 3 euro, prenderemo questa e questa, poi metteremo 3 euro, ma lo potete fare anche in forma di sistema, chiaramente. Adesso questa era chiaramente una simulazione, quindi possiamo anche chiudere, era tanto per prendere 3 partite. La cosa bella, come ribadisco, è che comunque adesso avete comunque un patemegum di quello che può accadere, nel senso che avete le coppie con le relative partite che prima vi dovete scrivere su un pezzo di carta fondamentalmente, adesso avete tutto sotto mano. Allora, voi sapete benissimo, e chi non ha visto il primo video non lo sa, che per andare in attivo fondamentalmente voi dovreste prendere tutte e tre le partite. La cosa buona è che se ne prendete due, comunque avete una limitazione del danno, questo è già chiaro, questo lo sapevate. Facciamo un esempio, abbiamo preso tutte e tre le partite, nell'esito investimento cosa faremo noi? Andremo semplicemente a riavvallare quello che era il nostro investimento, cioè questa partita, anzi questa partita, questa combo è andata in porto, sì, e allora possiamo confermare le 3 euro. Lui già ci dice che questa ci porta un incasso nordo di 8,31, ovvero un netto di 5,31 perché ovviamente toglie le 3 euro di investimento e già ci sta avvertendo che comunque dai 12 di investimento già ci troviamo solamente a una perdita di 3,69, chiaro che nel momento in cui anche la partita C addasse in porto, noi qui confermiamo le 3 euro, confermiamo automaticamente le 3 euro pure qua, perché se le abbiamo prese qua, qua e qua, abbiamo preso tutto, faremo così e faremo così. Lui ci dice che abbiamo avuto un incasso totale netto di 23,77, è netto però ragazzi, non è l'urdo, cioè questi sono proprio soldi che vi trovate in più sul conto, avevate un bankroll di 50 euro, adesso ve ne trovate 73,77. Finisce la storia chiaramente, si va sul reset perché si è andato inutile, non c'è bisogno di fare null'altro, si fa un reset e tutto si ripulisce tranne i nomi delle partite, perché molti di voi so che amano investire i suoi primi 45 minuti, non si sa se le cose vanno in porto o meno, però fanno degli investimenti sui primi 45 minuti, in questo caso che vadano bene o vadano male, molti di voi poi si rifanno ai secondi 45 minuti, quindi in quel caso ho detto, dovrò poi rischievere tutto un'altra volta, rifare il copia e colla, no, lasciamoli, nella peggiore dei poteri, se dovete cambiare le squadre, ci cliccate sopra, le annullate ovviamente e ripulite tutto, fine, nulla di più. Ora però torno indietro perché facciamo finta che abbiamo sempre queste squadre, facciamo che, arriviamo ancora indietro, quindi adesso li dobbiamo riscrivere i coefficienti, facciamo un esempio più scarno, dai, facciamo che erano tutti i coefficienti a 1,50, intanto 1,60 ecco, tanto per aumentarne 1. Ok, lui ti dà come al solito dei coefficienti sulle giocate, noi andiamo a inserire le nostre, io sono partito da 3 euro, ma potrete partire chiaramente da 2, da 5, da 10, dipende dal vostro bankroll, io dico sempre andateci calmi. In questo caso l'esempio è che noi prendiamo la partita A e prendiamo la partita B, ma non prendiamo la partita C. Cosa accade? Abbiamo preso la partita A e la partita B, benissimo, A, B, eccole qua, quindi noi confermeremo le nostre 3 euro. Purtroppo non prendendo la C, non prenderemo né la seconda combo, né la terza, né tanto meno la quarta chiaramente. Lui ci sta dicendo che il nostro gap è di 5,25, cioè abbiamo avuto sulle 12 euro di investimento una parte di rientro, che è questa ovviamente, ma purtroppo abbiamo ancora un debito di 5,25. Dove andremo a mettere questo 5,25 di debito? Qua sotto, già c'è il meno, quindi non dovete scrivere meno 5,25, dovete scrivere semplicemente 5,25, che è il debito accumulato. Fate un bel reset, facciamo finta che queste siano altre 3 partite, lui ci ricorda che partiamo con un gap di 5,25. Qui metteremo i nostri nuovi coefficienti che abbiamo trovato, 1,50, 1,50, 1,65, 1,73. Lui come al solito ci fa le nuove procedure dei calcoli, allora dobbiamo adesso capire semplicemente se è il caso o meno di ripartire dalle 3 euro. Come lo si fa? Abbiamo trovato 3 coefficienti, non abbiamo ancora fatto le giocate, come vi ho fatto vedere all'inizio del video. Mettiamo le 3 euro, facciamo la simulazione che le prendiamo tutte. In questo caso già ti sta dicendo che ovviamente stai sotto di 17,25, cioè le 12 che investi adesso, più le 5 che era in perdita dello step antecedente in questo caso. Facciamo finta che in questo caso ci dice più sorte e prendiamo sia la partita A, la partita B, la partita C, abbiamo preso tutto automaticamente, tutte le combo, andiamo a vedere cosa accade. Come simulazione in questo caso lo stiamo facendo. Lui ci dice che hai recuperato le 12 euro di investimento, hai recuperato le 5 euro di 25 che avevi come pregresso e ti trovi comunque addirittura con un utile di 19,37. Quindi dalle vostre 50 euro di partenza eravate tornati intorno alle 44,75. Chiudendo queste 3 adesso vi trovate 69,37. Questo è l'utile vero, avendo recuperato questo e avendo recuperato ovviamente investimenti. Chiaro che nel caso noi non avessimo presa neanche una o ne prendiamo come al solito una, facciamo finta che abbiamo preso sempre queste due, la C non la prendiamo quindi qui non prendiamo nulla, dobbiamo ripulire. Lui ci avverte in questo caso che il nostro nuovo debito è di 9,83. Benissimo, niente di drammatico e qui metteremo 9,83. Facciamo un bel reset, ripartiamo, troviamo le nostre nuove quote con le nostre nuove squadre, 1,6, 1,65, 1,50. Qui riproviamo a puntare 3 euro, vediamo ovviamente se c'è ancora convenienza di farlo, perché il nostro obiettivo chiaramente è prendere tutti e tre i match. Lui ci dice guarda tranquillo Max, perché comunque se li prendi questa volta avrai comunque un attivo di 12,60, quindi hai comunque recuperato tutti i debiti accumulati e l'investimento stesso. Nel caso che questo non fosse accaduto, facciamo l'esempio successivo, le abbiamo sbagliate tutte, ora abbiamo presa una, abbiamo preso questa, ma abbiamo sbagliato la B, chiaramente prendendone solo una automaticamente non prendiamo nessuna combo, perché chiaramente si prendiamo qua, qua e qua, ma poi questa è sbagliata, questa è sbagliata, questa è a prescindere, questa è sbagliata, quindi noi che facciamo in questo caso? Mettiamo tutti i 0, cioè lasciamogli i 0 e lui ci dice a Max, se lo stai 21,83 come debito, benissimo, 21,83, un reset e andiamo a ripuntare, facciamo nuove coefficienti, come al sordo, 1,6, 1,5, va bene, mettiamo le nostre 3 euro di puntata per tutte le combo, vediamo se ancora riusciamo ad avere un utile mantenendo sempre le stesse impostazioni di investimento. No, lui ci dice in questo caso che nel caso anche dovessimo temperare a tutte le 3 i match investiti, cioè che le andiamo a prendere, purtroppo avremo comunque un esito negativo di 1,88 euro. In questo caso è la nostra scelta, se chiuderla comunque così e dire, ragazzi ho perso un anno 88 che io condivido appieno, vi facciamo tutto da capo con nuove avventure, perché ho visto pure che però quando chiudo ne guadagno 8, 10, 15, 20, quindi chi se ne frega. Oppure per i più pignoli, in questo caso basterà aumentare l'investimento successivo di una unità, così, benissimo, e automaticamente, aspettate, giustamente qua dobbiamo mettere 4, 4, 4 e 4, e lui farà notare, dice guarda che se ne prendi stavolta avrai un utile di 4,77 euro, quindi sarete voi in questo caso a fare le variazioni e le oscillazioni. Perché vi dico le variazioni e le oscillazioni? Può capitare che a volte andate a recupero, perché qui avevate un coefficiente che avete azzardato a 2, benissimo, questa a 2, ne avete presa soltanto una, benissimo, ne avete presa una e automaticamente prendendone una, in questo caso perché è stato un gioco facile chiaramente, facciamo 2.35, tanto per spararlo, cosa noterete? Noterete che in questo caso il vostro incasso totale, che comunque resta in negativo, però diventa inferiore rispetto alle perdite precedenti, facendo una cosa del genere, quindi qui nel momento che però andate a mettere 19.03, molto probabilmente potrete ritornare a investire 3 euro, vediamo se è vero, perché comunque il vostro debito è nuovamente calato, l'ho fatto apposta questo motivo, facciamo finta 1.6, 1.65 e 1.70, facciamo un po' più alto di media, facciamo una conferma, quindi vi sto spiegando un po' di trucchi anche per, ecco qua, voi adesso siete potuti ritornare alla vecchia forma di investimento delle 3 euro, non più delle 4, quindi c'è stata un'oscillazione che vi ha portato al recupero rispetto al memo antecedente e quindi vi permette anche di riabbassare la quota di investimento, passando dalle 4 di prima alle 3, quindi vi dà oltretutto questo, la possibilità di oscillare nel medio e lungo periodo tra qualcosa che va bene, qualcosa che va male, qualcosa che va bene, qualcosa che va male, fino a quando non le prendete tutte e 3 e andate a chiudere in attivo, poi siano attivi di 5 euro, siano attivi di 25 euro, questo è chiaro, dipende dai coefficienti, dipende da quanto è il gap accumulato, dipende, si va poi fondamentalmente da questi due fattori, chiaramente è sempre la combo ABC che fa la differenza, come si può notare. Ok, questo è lo stesso software completamente rivoluzionato dal punto di vista grafico, questo sì interattivo, mi è piaciuto aggiungere chiaramente anche la possibilità di aggiungere le partite, in modo tale che ce le avete regolarmente con le Giales e Argentinos, con le Giales e Sauramundo, Argentinos e Sauramundo e tutte e 3, in modo tale che già associate tranquillamente le partite al corretto coefficiente, non dovete andare sul bookmaker a vedere immediatamente, aspetta, fammi vedere, ma io ho inserito sto dato, a quale fa riferimento, no, qui ci avete tutto, già sapete quello che accade, andate a vedere l'esito di Collegiales e Argentino, se è andato in porto voi già sapete che questa l'avete presa, fine, ci mettete un bel 3 in questo caso e vi dice quanto avete incassato. penso di aver fatto una cosa carina, ma in realtà lo sto facendo anche perché questo progetto, sapete che era partito un po' così, giocherellando in un certo senso, poi è diventato talmente serio, ha avuto un riscontro, scommesse matematiche, sta avendo un riscontro talmente forte che ho detto, beh, allora no, allora è giusto anche che i vecchi progetti che erano stati, sì, matematicamente, a mio parere, perfetti, però forse è il caso anche di creare i relativi software in forma un po' più professionale e di una più semplice interazione. Ragazzi, è gratuito, sapete che noi viviamo nel 90% dei progetti di donazioni, raramente qualche volta il 10-15% dei progetti sono a pagamento, ma sapete anche il perché per le tante fatiche, non è che qui ci ho perso mezz'ora, purtroppo ci ho perso di più, molto di più, però l'ho fatto con piacere a prescindere se gradite aiutare, a prescindere scommesse matematiche e maxmante, qui ci sono tutti i dati per poter supportarci nel nostro lavoro quotidiano. Ringrazio tutti voi che siete stupendi, anche nelle chat, nelle mail che mi mandate, su Telegram, anche in forma privata, mi scrivete, sapete che io nell'arco massimo di 24 ore, comunque, bene o male vi rispondo. mi piace il fatto che alcuni di voi stiano presentando dei loro progetti in forma privata, così andiamo poi insieme a verificare, a studiare se ci sono delle basi su cui poter creare qualcosa di ammortizzato, di tutelato, al fine di evitare perdite eccessive e tutt'al più, come dico sempre io, una volta capito il messaggio di troviamo il sistema di non perdere o di perdere il meno possibile, cerchiamo anche di andare inutile, fatto apposta, ci mancherebbe. Un forte abbraccio da scommesse matematiche e maxmante, ci vediamo al prossimo progetto.